Antonio Stirelli, portato a casa anche questo campionato quad cross e side car cross 2015, grande soddisfazione anche perché nell'ultima gara si è battuto il dry court di partecipazione. Sì, queste sono cose importantissime, sono gratificazioni importanti, soprattutto per tutto il lavoro che è stato fatto. Mettiamo in archivio una stagione dove ci ha dato grande soddisfazione, soddisfazione dei nuovi campioni, soddisfazione dei nuovi piloti che sono avvicinati a questa disciplina. Direi molto importante è stato l'abbinamento col promotore, un grande promotore che ha portato ancora più importanza a questa disciplina e grazie a lui che cercheremo di farci conoscere sempre di più. Grande successo sia nel mondo dei quad che nel mondo dei side car. Side car si stanno avvicinando sempre di più, giovani stanno entrando e la stessa cosa sta succedendo nel quad. Per il momento, come si dice, a botta calda sono solo contento, è chiaro che c'è ancora tanto da fare, da domani cominceremo a lavorare per vedere dove stiamo sbagliando. E da domani cominceremo a lavorare anche per la maglia azzurra? Da domani sì, diciamo che allora sia giusto per determinare i tempi giusti di lavoro, adesso lavoreremo per la maglia azzurra. È imminente la nostra partenza, finalmente le squadre sono state definite. Abbiamo sentito tutti i ragazzi giovani, ragazzi che hanno voglia di fare una gran bella figura. Andremo là con la massima umiltà, in punta di piedi, ma cercheremo di fare un grande risultato.